Nella settimana del Black Friday, che secondo le stime muoverà un giro di affari da 4 miliardi in Italia, arrivano anche le conferme sulle date d'inizio dei saldi invernali. La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni che si è riunita nei giorni scorsi ha accolto le richieste della maggioranza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando venerdì 5 gennaio 2024 come data di partenza. Lo annuncia il coordinatore della Commissione, Andrea Maria Antonini, che lo scorso 16 novembre aveva indetto un tavolo tecnico per fare chiarezza in materia e per ascoltare le istanze delle realtà associative nazionali. Al termine dell'incontro, tranne la Confese Arcenti, che aveva richiesto di posticipare l'inizio della data dei saldi invernali alla prima settimana di febbraio, tutte le altre associazioni di categoria si sono espresse per il mantenimento della data prevista nell'accordo relativo agli indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data d'inizio delle vendite di fine stagione, approvato nel 2011, che individua nel primo giorno feriale antecedente l'epifania la data d'inizio dei saldi invernali. Dalla riunione del 16 novembre è emersa comunque la volontà condivisa da parte di istituzioni e associazioni di categoria di rivedere già in un prossimo futuro i contenuti di talentesa nazionale, sulla base anche degli evidenti cambiamenti climatici che stanno condizionando in non poco la programmazione delle attività commerciali del nostro paese, spiega Antonini. Convocheremo già all'inizio del prossimo anno, ha aggiunto un tavolo di confronto con tutte le associazioni in cui chiederemo loro una proposta unitaria a riguardo. Le vendite a prezzi ribassati in Lombardia, come detto, inizieranno il 5 gennaio e dureranno poi fino al 5 marzo. Grazie a tutti.